che fai? scusa eh ma intanto manca un minuto no? poi lo capisci? 30 secondi ok bene, tutti partiti non puoi andare volare Stai, stai! Stai, stai, stai! Stai, stai! Stai, stai! Stai, stai! Stai, stai! Stai, stai! Stai, stai, stai! Stai, stai, stai! Stai, 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 stai! Stai, 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 stai! Stai, stai, stai! Stai, 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 stai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.